Continua l'opera di Reisling all'interno della città di Cirignola nel Voggiano, operata dal sindaco Ofantino Franco Ammetta. Nella giornata di giovedì sono stati tolti definitivamente una serie di dossi che si trovavano lungo il percorso della scuola di Vittorio, guidata dalla dirigente Lucia Lenucci. Quei dossi, oltre a essere di particolare pericolosità, erano stati emessi dalle precedenti amministrazioni di centrodestra, provocando parecchi disagi alla circolazione automobilistica. Come si può vedere nelle immagini che ci sono giunte a questa redazione, si può vedere come la sistemazione dei dossi sia stata eliminata nella maniera più utile possibile. Ed ora per i cittadini sarà più semplice poter andare con le proprie macchine da quelle parti senza dover incappare in altre situazioni spiacevoli.